Ciao, sono Roberto Foderà e lavoro all'ufficio territoriale dell'Istat sede di Palermo. Da molti anni portiamo la statistica ufficiale dentro le scuole, ma per promuovere la statistica e stimolarne la comprensione e l'uso nella scuola. Chi può darci una mano se non i docenti? La sede territoriale dell'Istat di Palermo ha quindi promosso nell'anno scolastico 2017-2018 assieme all'ufficio scolastico territoriale una serie di lezioni teorico-pratiche per insegnanti di scuole superiori della città. Corso a cui hanno partecipato 18 docenti di diverse discipline provenienti da istituti differenti con percorsi scolastici come licei scientifici, economico-sociali, tecnici, professionali. Con loro si è parlato di demografia, di economia, di indagini sociali, si è spiegata la metodologia ma soprattutto si sono usati i dati per capire la realtà e per mettere i docenti nelle condizioni di essere i portavoce della statistica ufficiale nelle loro prassi. Possiamo solo dire che il corso è stato un successo.